Una delle attività principali che Hauser a Reggio Emilia e Provincia svolge è quella dell'accompagnamento di persone anziane, disabili e in difficoltà verso strutture sanitarie e non solo. Anche nell'emergenza Covid-19 l'associazione non si è fermata, come a Gualtieri, dove gli automezzi Hauser sono stati utilizzati oltre che per gli accompagnamenti sanitari, per la consegna della spesa dei farmaci a domicilio. Inoltre, a Gualtieri, i veicoli Hauser vengono utilizzati per la quotidiana consegna dei pasti agli anziani. Ricevo le chiamate, le telefonate, si tratta soprattutto di utenti anziani, molto spesso soli, che non hanno parenti vicini e che chiedono di poter essere accompagnati a fare delle visite, che in caso contrario non riuscirebbero a fare, ma molto spesso si tratta anche proprio di persone sole, che hanno bisogno di un consiglio, hanno bisogno magari che qualcuno faccia loro la spesa e gliela porti a casa. Nel caso delle visite, il giorno dell'appuntamento, il nostro volontario si reca a casa della persona, eventualmente abbiamo anche qui nella nostra sede delle carrozzine pieghevoli nel caso fossero necessarie, e viene accompagnata la persona a fare la visita. Il volontario rimane con lei per tutto il tempo necessario e poi in seguito viene riaccompagnata a casa. Ci occupiamo anche della consegna, in questo periodo qui, delle borsine con i prodotti alimentari a domicilio. Se ne sono occupati fino ad ora dei giovani che durante il periodo Covid hanno dato la loro disponibilità a fare del volontariato e questi sono stati circa 18 ed è stato un beneficio notevole per la comunità. Sono occupato di portare in giro un po' le mascherine casa per casa, quindi andando a suonare proprio dalle persone, la distribuzione delle borsine, le persone socialmente, economicamente più deboli e poi ho fatto qualche giro in ospedale quindi per visite mediche, questo è stato un po', sono stati i miei tre servizi. Ti è rimasto nella memoria diciamo un qualche episodio particolare di questo periodo? Beh, mi è rimasto un episodio in cui sono arrivato in una casa e c'era già la scesa dal furgoncino con la borsina in mano e mi ha detto, oh ma allora non vi siete scordati di me, quindi forse è segno che aspettavo oltre che la borsina anche una persona che l'andasse ad accogliere, ecco a trovare in un qualche modo perché questa era una persona che viveva sola e quindi forse c'era anche il desiderio di perlomeno incontrare qualcuno quei pochi minuti di servizio. Ricorda un qualche episodio, una qualche storia di una qualche persona che magari ha conosciuto accompagnando e che le è rimasta impressa in particolare? Noi siamo già contenti quando ci dicono solo grazie, non tanto per dire, però una signora l'ho accompagnata a Reggio e parlando in macchina con lei del più e del meno e nel ritorno si è messa a parlare e mi ha detto, guardi signor Marcello posso dirle una cosa? Lei è veramente brava a guidare, io sono rimasto totalmente entusiasta di questa cosa che me la ricorderò per un bel po', me la ricorderò, è una piccola cosa però è importante per noi. In merito all'accompagnamento sociale quali sono le precauzioni che Hauser in questo periodo Covid sta prendendo per andare incontro e tutelare sia gli utenti che i volontari? Ci siamo dotati di mascherine, gel igienizzanti da mettere su tutte le macchine, sanificazione delle macchine, areazione delle macchine e noi prima di partire tutte le mattine vengono utilizzati i prodotti igienizzanti sul volante, sulle parti più sensibili della macchina, sui sedili, questo è quello che facciamo gli automezzi quotidianamente ed è un impegno abbastanza grande.